Ho scelto il numero 20 perché due settimane fa ho fatto l'esordio in nazionale e mi hanno dato il numero 20, quindi è stata una scelta chiara. Quest'anno voglio giocare di più, sono carico per questa stagione e voglio giocare tanto, giocare bene e vincere partite con Cagliari. Vediamo sinistro-destro, a me non è importante se gioca sinistro-destro, l'anno scorso ho fatto anche un po' come trequartista, ma preferisco giocare come mezzara. Due settimane fa il mio procuratore ha detto che i Cagliari sono interessati a te e ho capito che il Presidente mi voleva tanto. Questo è molto importante, quindi ringrazio il Presidente per aver portato qui. Sardegna è un'isola bellissima, Cagliari è una bella città, è stata una scelta molto facile. Una squadra molto forte, quella contro Albinalef ha fatto una partita bellissima, ha fatto tanti gol e ha avuto tante occasioni. C'è giocatori molto forti, soprattutto sul centrocampo dove gioco io, quindi c'è una guerra per ogni posto.